Ricostruiamo Brolo, un'invocazione, una speranza, una necessità per il gruppo che oggi ha ufficializzato la candidatura a sindaco di Irene Ricciardello che ha già quasi completato la lista in corsa per il Consiglio Comunale. Irene Ricciardello ha inoltre annunciato i criteri alla base dell'azione amministrativa in caso di elezione rinuncia all'indennità di carica, costituzione di parte civile nell'eventuale processo sul multifantasma, mentre il primo atto sarà la revoca della delibera sull'aumento del canone dell'acqua. Ci aggiungerei anche tutte quelle azioni presso gli enti come per esempio la Corte dei Conti per la restituzione delle somme che sono state indebitamente sottratte. Questo è una cosa alla quale tengo molto, l'abolizione dell'aumento e la variazione anche della modalità di tarifazione dell'acqua. Una cosa a cui tengo molto e che secondo me è un segnale di grande trasparenza è l'estratto conto bancario online del Comune in maniera tale che così ogni cittadino possa rendersi conto in tempo reale chi, come e perché sono uscite delle somme e quali sono le motivazioni. E così i cittadini potranno anche rendersi conto che in caso di Vittoria Nostra i pagamenti saranno in assoluto ordine cronologico. Nelle intenzioni del gruppo Ricostruiamo Brolo si deve ripartire dalla gestione dell'ordinario, dalla pulizia all'abbattimento delle barriere architettoniche, al sostegno alle imprese. Ci siamo riuniti prima che sulla persona, sui progetti, sulle idee, sulla voglia di ricostruire e di portare avanti nuovamente Brolo. Una candidatura che mi è stata chiesta e che ho accettato con estremo senso di responsabilità. Grazie a tutti.